Ciao a tutti ragazzi e bentornati, allora siamo qui oggi con un unboxing, ragazzi vi farò vedere un po' quello appunto che ho comprato e diciamo appunto che è qualcosa che riguarda appunto il miglioramento della qualità del canale, ragazzi quindi io andrei ad aprire il pacco e vi faccio un po' vedere quello appunto che c'è dentro ed ecco qui ragazzi, il pacco è stato aperto, ecco qua ragazzi l'acquisto nuovo appunto per migliorare la qualità si tratta appunto di un microfono appunto del Yeti Nano, del Blue Yeti, un microfono che comunque viene utilizzato appunto tanto nello streaming è uno appunto dei migliori sulla piazza appunto in una fascia di prezzo diciamo giusta e in più ragazzi un adattatore che mi servirà praticamente per collegare il microfono appunto con l'USB allo smartphone e praticamente ragazzi appunto con questo microfono appunto spero di riuscire a migliorare tanto la qualità dell'audio ed ecco qui ragazzi il microfono, allora vedi come vedete appunto è questo, diciamo questo è il modello base diciamo così del Blue Yeti ci sono appunto anche dei modelli ovviamente più grossi insomma che costano di più però questo qui secondo me come base ragazzi è un ottimo microfono ecco quindi come vedete c'è appunto il pulsante per regolare appunto il volume delle cuffie ragazzi e sotto vedete c'è praticamente il collegamento appunto USB per il PC e quello per le cuffie e poi ragazzi sul retro del microfono abbiamo per la scelta appunto del pattern cioè vuol dire praticamente cioè se diciamo se si parla da soli si può scegliere appunto il pattern quello appunto sulla sinistra con il cuore mentre parlando appunto se stiamo magari non lo so tipo in due o tre persone ma che appunto ti permette di avere il, cioè di capire di captare il suono praticamente da tutto il lato del microfono mentre con quell'altro pattern solo magari dalla parte, dalla parte frontale ecco e più ragazzi appunto ho comprato anche questo, questo adattatore che da un lato ha questo attacco appunto USB Type-C che ti permette appunto di collegarlo allo smartphone e di qua appunto un USB femmina che ti permette appunto con questo capo qui appunto di essere collegato allo smartphone però ovviamente questo rimane un microfono prettamente insomma da uso, da uso insomma per PC ed eccolo qua ragazzi nella postazione poi adesso appunto lo collegherò, farò appunto dei test e per vedere comunque insomma ragazzi appunto la qualità dovrebbe essere sicuramente ma molto sicuramente maggiore appunto di registrare direttamente l'audio appunto dallo smartphone ragazzi quindi niente i prossimi video verranno appunto sicuramente fatti con appunto con questo microfono qui ragazzi e io appunto credo che sentirete parecchio appunto la differenza dai precedenti video ecco quindi ragazzi niente vi ho fatto appunto vedere un po' quello appunto che ho comprato ragazzi adesso insomma vi spiego un po' il perché insomma e niente allora ho deciso ragazzi appunto di fare questo, questo, questo investimento perché praticamente insomma secondo me ragazzi quando appunto arrivi ad un certo punto non basta soltanto fare, fare video ma bisogna insomma cercare anche di fare video di una, una, una certa, certa qualità ragazzi secondo me appunto sotto l'aspetto del video appunto anche adesso non, non ci sono problemi ragazzi perché comunque appunto con lo smartphone appunto come qualità video si riesce a fare appunto delle, delle discrete cose però ragazzi appunto sotto l'aspetto dell'audio ragazzi secondo me appunto è uno degli, degli aspetti fondamentali ragazzi cioè secondo me appunto si può vedere un video anche con una qualità leggermente meno buona ma comunque insomma l'audio ragazzi deve essere secondo me il, il migliore possibile perché comunque ragazzi appunto con il microfono dello smartphone secondo me si sente molto appunto questo, questo effetto, questo effetto cucufo diciamo così e non ci si riesce appunto a godere al, al meglio il, il, il video ragazzi appunto anche io quando appunto vedo un video con un audio che insomma che si sente che non è buono e ovviamente ragazzi questo video poi insomma va a finire che insomma che non, che non lo vedi tutto c'è poco, c'è poco da fare ragazzi quindi niente appunto ho ritenuto che fosse insomma il momento buono ragazzi di fare appunto questo, questo investimento ragazzi e niente appunto spero appunto che i prossimi video insomma saranno appunto quindi di qualità ancora, ancora migliore ragazzi sotto appunto l'aspetto dell'audio proprio appunto che sentirete nettamente la differenza a partire ragazzi appunto dal prossimo video e visto ragazzi che ho in mente anche di fare delle, delle live più spesso diciamo ragazzi che appunto con il microfono dello, dello smartphone era una cosa che non si poteva fare ragazzi perché infatti anche nell'ultima live insomma l'audio che avevo non era buono ragazzi e secondo me insomma se in una live non senti bene l'audio insomma c'è poco da fare non ha senso ragazzi quindi insomma questo che ho comprato è uno dei microfoni che su una certa fascia di prezzo ragazzi certo non è niente di professionale però diciamo tra i microfoni per un certo tipo insomma di uso da casa ragazzi questo Blue Yeti Nano è uno insomma dei migliori cioè ci sono anche dei modelli che costano di più però ragazzi questo qui insomma come base è veramente ma più che ottimo come ho detto sì magari potevo spendere anche qualcosa meno ma insomma ho preferito ragazzi appunto spendere subito questi soldi ragazzi quindi appunto per migliorare subito e spero appunto ragazzi che appunto anche voi sentirete la differenza appunto fatemi sapere ragazzi nei prossimi video tutti appunto i feedback appunto dell'audio se è più chiaro se insomma credete sia migliorato e ragazzi ultimissima cosa appunto io come verrete già da quando pubblicherò questo video avrò aperto praticamente la possibilità ragazzi di fare delle donazioni al canale su Streamlabs ragazzi troverete appunto il link sotto alla descrizione del video ragazzi e lo inserirò appunto in tutti i video che pubblicherò voi ragazzi basta appunto che chi vorrà ragazzi se il contenuto sempre è di vostro gradimento ragazzi voi potete appunto farmi una donazione ragazzi sempre se lo vorrete io cioè non voglio sicuramente obbligare nessuno ragazzi se voi appunto credete in questo progetto qui se ragazzi i contenuti che pubblico vi piacciono ragazzi voi potete appunto farmi questa donazione di qualsiasi cifra ragazzi non c'è un limite potete donarmi anche un euro ragazzi che insomma io sinceramente lo prendo più che volentieri perché insomma significa appunto che state apprezzando quello che sto facendo ragazzi io ovviamente non vi chiedo niente insomma io apro questa raccolta questa donazione ragazzi appunto se vi va se volete me lo potete fare ragazzi appunto per rientrare un po' un minimo appunto nelle spese e niente ragazzi però appunto io ho preferito fare questa spesa ragazzi da solo in anticipo per appunto per migliorare subito la qualità ragazzi e poi appunto come ho detto nel caso che voi che voi vorrete appunto mi potete aiutare appunto a rientrare un po' nel costo e ragazzi appunto direi che non c'è niente altro da dire e noi ci vediamo sicuramente ragazzi prestissimo al prossimo video troverete come ho detto se volete subito il link in firma per le donazioni ragazzi noi ci vediamo al più presto un saluto a tutti grazie ciao ciao